Noi riusciamo più a capire gli animali, abbiamo perso un grosso contatto con la natura e spesso li umanizziamo. Gli animali non sono umani. Si moltiplicano un po' dappertutto gli episodi che vedono coinvolti gli animali. Non ultime a Trieste le vicende che hanno visto protagonisti due cinghiali. Ospite di Trieste in diretta, il direttore dei musei scientifici cittadini Nicola Bressi, zoologo, così spiega i fenomeni. Gran parte degli animali, a parte quelli più complessi come quelli domestici, eccetera, tendono a dividere il mondo in poche categorie, ovvero ci sono i nemici, quelli a cui è meglio stare alla larga, ci sono le prede, quelle che bisogna mangiare, ci sono i cospecifici, ovvero quelli che possono essere sia dei partner sessuali ma anche dei competitori, quindi vanno valutati di volta in volta. Vi è poi una cosiddetta zona grigia dai contorni assai sfumati e secondo molti animali ormai considerati di città, l'uomo, che un tempo era ritenuto un predatore, sarebbe entrato in quella zona grigia e perciò non sarebbe più percepito come un pericolo. Per gli animali ciò rende possibili determinati comportamenti, anche alla luce di un'ulteriore considerazione. Gli animali sono bellissimi perché tranne alcuni animali domestici come i gatti, non ammazzano mai per gioco per noia, ammazzano sempre per un motivo ben preciso. Ma è appunto perché ammazzano sempre per un motivo molto preciso, lo fanno in un modo del tutto innocente, che sembra assurdo dire che lo ammazzano in modo innocente.